amici dei fuoricampo di tutto udinese oppure semplici simpatizzanti bianconeri ben ritrovati in questo nuovo video qui ha sottoparlato come sempre il vostro davide marchiol per fare il punto della situazione in casa udinese alla luce della sconfitta all'esordine del campionato di serie a san siro contro il milan per 4 a 2 adesso analizzeremo ovviamente un po tutti i passaggi cosa ha funzionato cosa non funzionato nella compagine di sottilvi pranuncio subito che non intendo parlare dell'arbitro ha fatto molto di scuola hanno fatto molto di scuola alcune sue scelte io personalmente non ne parlerò in questo video è la prima giornata non intendo già fare discussioni strane quindi se volete ovviamente nella sezione commenti come sempre aperta mantenendo ricordatevi i freni dell'educazione potete ovviamente commentare anche quello mi raccomando ripeto evitiamo isterismi nervosismi e scontri inutili magari con altri utenti restiamo nell'educazione quello è l'importante poi per il resto le opinioni vanno accolte diciamo ovviamente prima di cominciare con le analisi parlerò anche un po di mercato e di udogi soprattutto perché insomma siamo finalmente finalmente un pari di luciuffoli ma siamo anche in chiusura di tende novella adesso vi me ne parlerò anche anche di questo durante il video però prima di iniziare ovviamente ricordatevi like e iscrizione soprattutto l'iscrizione è fondamentale parliamo di realtà soprattutto di realtà piccole facciamo live in cui curiamo sia la serie b che la serie a e quindi se volete che certe piazze continuino ad avere uno spazio dedicato come il nostro dovete supportare se non supportate se non ci sono i numeri purtroppo inevitabilmente questi progetti decadono e poi non lamentatevi che si parla di quelle sempre quelle noi cerchiamo di offrirvi un qualcosa di più quindi ricordatevi iscrivetevi perché sono numeri fondamentali e se siete già iscritti ricordatevi il like è molto importante anche like ricordatevi basta tappare lì perché solo così il video viene fatto già dalla piattaforma quindi ora cominciamo una partita che ha dato veramente direi tanti 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 temi e cioè potrei anche andare banalmente si uomo per uomo tra lasciando proprio due parole per il silvestri proprio irreprensibile rispetto ad altre partite ma insomma ci sta sul 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 rigore che porta al pari ma nasce un cross in un modo un po x non è parso sicuro come in altre circostanze prima giornata di campionato ripeto poi nel weekend di ferragosto quindi non so che punto capito faceva caldo a san sirio infatti si è avuto anche il cooling break non lo so cioè vabbè una partita da 5 e mezzo diciamo che ci sta una volta ogni tanto scaliamo subito e passiamo al punto focale di tutta la partita perché comunque hai fatto due gol in un precampionato dove sembrava che fosse il gol un po il tuo problema paradossalmente invece hai fatto due reti e nei prese 4 ergo qualcosa direi che là dietro non ha funzionato anche perché il milan si partita con diversi spunti anche del milan non fa gol da fuori non vedo gol da fuori classe da parte del milan ma ci sono degli errori abbastanza definiamoli grossolani passatemi questo termine da parte dei bianconeri e se la catena di destra soprattutto grazie a becao perché soppi continua ad essere di una confusionarietà non so neanche se sei italiano ma proprio è quello che mi suscita confusionarietà soppi becao ha fatto una grandissima partita insomma non me l'abbiamo capito un difensore centrale molto affidabile sappiamo che quest'estate in caso di offerta rilevante potrebbe partire ma ormai il tempo agli sgoccioli per una partenza di un big del genere spero di poter goder di lui anche questa stagione mettiamola così perché anche stavolta sì ogni tanto qualcosa è sfuggito inevitabilmente ma in generale ha fatto una prova veramente rocciosa buona cioè se devo paragonarlo agli altri cinque difensori perché comprendo anche soppi e masina ha fatto veramente un'ottima gara noi think io lo adoro ragazzo cioè mi sono anche preso la maglia commemorativa dell'anno scorso mettendoci il suo nome e lo considero un pochettino il capitano forse più di Pereira perché comunque noi think c'è stato nei momenti veramente bui per l'udinese è però forse forse non è più noi di che conoscevamo perché anche stavolta su due di Rebic sì quel cross non deve partire ma sinam lascia una prateria perché sbaglia completamente le scalate insieme a Perez ma troppo lento per andare a marcare Rebic troppo spazio troppo lento cioè è chiaro che siamo abituati siamo stati abituati nel G1 a un Pablo Marie che forse per il paralite udinese era troppo ma così è un problema Bram già gli anni scorsi iniziava a palesare dei segni di cedimento adesso inizia a diventare un pochino preoccupante poi chiaro ripeto siamo alla prima magari mi sbaglio ma è più un timore che mi viene dato da uno storico di partite di questi mesi c'è anche da dire che centralmente non hai grosse soluzioni perché spostare Becao non ha senso e Perez è troppo piccolino passando a Perez brutta partita orrenda cioè parso veramente deconcentrato con Masinas non si trovava mai si sono capiti malissimo quasi sempre e infatti hanno lasciato Varchi e palloni in aria pericolosissimi da cui sono scatteriti i gol che poi ti hanno fatto perdere cioè quella catena lì non ha funzionato per niente chiaro U2G tornerà per fare una stagione in prestito da noi se va bene ok cioè ci sta quindi non mi preoccupa perché giocherà con U2G le prossime partite a dobbiamo capire Perez quanta voglia c'ha di stare ad Udine perché un minimo di dubbio del suo atteggiamento me l'ha fatto venire le proprie espressioni della faccia e la postura che teneva un qualche dubbio me l'hanno fatto sorgere ma ripeto prima giornata vediamo col tempo Masina bel gol per il resto appunto ripeto non si è mai capito con Perez non si è mai capito con Perez e c'è un Saraud oggi Masina sarà il suo vice e vediamo perché e Bosse anche stavolta quando è entrato a fare l'esterno ha fatto capire di essere un terzino non un esterno o un braccio di sinistra comunque un ruolo più agganciato alla difesa e non un ruolo tutta fascia allora le questioni sono due o sto buta quando rientrerà dall'infortunio gravissimo che lo terrà fermo fino più o meno alla primavera è veramente un fenomeno in potenza oppure sul mercato dell'anno prossimo qualcosa sinistra dovrà arrivare perché mi sembra che Bosse sia un braccio di sinistra mi sembra che Masina si benino ma o ha un giocatore un po' diverso da Perez o faccia un po' fatica e Udo oggi lo perderai perché andrà infine al Tottenham quindi boh vediamo questo ripeto sono sensazioni della prima giornata magari tra un mese mi ritrovo a parlare di un Masina che con Perez si intende perfettamente e non si pone più il problema io adesso parlo ovviamente relativo a questo questo momento storico in mezzo che dire benino Pereira ha alternato cose buone qualche buono spunto a momenti di blackout dovuti probabilmente ancora una forma fisica non al top così come Wallace che quando è al top è veramente un signor mediano quando non lo è rischia ogni tanto di perdere dei palloni davanti all'area che ti costano un patrimonio stavolta non è successo nulla di grave deve però accelerare ed entrare in forma al top della forma il prima possibile perché serve perché serve perché quando non lo è fa danni ma Ken Go come Pereira qualche spunto interessante null'altro cioè paradossalmente ha fatto qualcosa di più con il ruolo di mezzala Becao che ho visto sganciarsi spesso un po' un sottile alla Gasperini che faceva sganciare Becao per andare a dare supporto alle sgruppate di un soppì anche oggi un po' fumoso e questo credo che questi sganci da parte di Becao per buttarsi in avanti credo sia la modifica principale rispetto al gioco di Schofi che comunque per quanto offensivo prevedeva tre uomini un po' più bloccati ecco là dietro. De Luffeo è un altro disastro completo totale cioè ha sbagliato di quelle robe che sono oggettivamente incomprensibili ogni tanto non si è preso dei tiri che doveva assolutamente prendersi per un giocatore della sua classe ogni tanto non ha fatto degli assist che erano già scritti per success. Il De Luffeo di inizio campionato di solito è sempre un po' così tende a voler strafare e non ha ancora le gambe che gli girano nel modo giusto per strafare e credo che oggi si sia visto. È un peccato perché ripeto è stata una partita che il Milan non ha stravinto sotto l'aspetto del gioco. L'Udinese ha detto la sua soprattutto in contropiede però poi se il contropiede non li finalizzi fornendo la palla giusta al momento giusto e De Luffeo ha i piedi per farlo e qua c'è un problema. Success non mi è così troppo dispiaciuto, ha fatto il suo... ripeto, lì serve il centroavanti perché sia Success che De Luffeo sono giocatori da supporto a un centroavanti poi in modo diverso. Success fornisce a Filtranti, De Luffeo può trarre spunto e giovamento dagli spazi lasciati da un Beto per mettere le sue inventive, i suoi tiri da fuori, i suoi assist scodella in area. Beto che quando è entrato ha fatto capire che purtroppo la forma è ancora anche per lui precaria e sono indiversi ad non essere ancora al top della forma a campionato iniziato e devo dire che comunque rispetto alla Feralpi si è già visto un aumento della brillantezza quindi io auspito il conto della Salernitana dove i punti saranno già pesanti ci sia un ulteriore passo avanti e si inizierà a vedere un Udinese molto più simile alla realtà perché ci sarà Udogi che tra l'altro è partito in queste ore per andare a svolgere le visite mediche a Londra quindi rientrerà, penso forse era agosto ma comunque il tempo per la partita abbondantemente. non credo ci sarà Beto dal primo minuto però almeno avrà i dieci undicesimi della rosa della formazione titolare che dovrebbe e dovrebbe poi disputare l'intero campionato a meno di clamorose svolte sul mercato come è arrivata per Udogi insomma. Tra i subentranti mi sono piaciuti in particolare credo Lovric e Samarzic Samarzic soprattutto per che col piede che ha quando riesce a trovare un po' di spazio per tirare da fuori è molto interessante e il sottilista iniziano a provarlo un pelino più avanzato in una posizione ibrida tra la mezzala e il trequartista che forse è il suo ruolo ovvero un ruolo che attualmente non esiste, gli va disegnato, gli va cucito appositamente. infatti giocava a un certo punto quasi sulla linea con Beto e Deulofeu dopo che è subentrato Lovric mi è piaciuto soprattutto per la personalità e il coraggio che ha quando si prende la responsabilità di fare certi passaggi. Non è uno che ci incischia lì in mezzo e si mette a fare i passaggetti, il tiki-taka puro e nudo, ma prova qualche palla in profondità, qualche palla larga improvvisa e ci servirebbe un giocatore così. Non credo che quest'anno avrà lo spazio del titolare ma credo che l'anno prossimo soprattutto se Wallace dovesse andarsene nei prossimi sessioni di mercato perché ricordo se Wallace e Pereira sono in scadenza e attualmente il rinnovo non c'è penso se ne stia parlando ma non c'è e Sandy Lovric può essere un'arma interessante, un'arma molto interessante per aumentare la qualità lì in mezzo al campo. Quindi che dire, Udinese è ancora un mezzo cantiere purtroppo e Sottil secondo me sta dando un po' di forma ma manca ancora qualcosa manca feeling sulla catena di sinistra se metti Pere e Temasina che non sarà quella l'accoppiata perché sarà Pere su Doji e manca il centro avanti perché Beto ancora non al top e magari sul mercato dovrebbe arrivare, potrebbe magari arrivasse un vice un po' più affidabile di Mnestorowski che come ho sempre detto nei video a parte la buona volontà non ci riesce a mettere tanto altro però vediamo, non ho chiuso per questo ragazzino Semedo del classe 2005 che probabilmente si palleggerà un po' tra prima squadra e primavera vediamo se arriverà un effettivo vice Beto e Deulofeu rimandato a quando ricapirà ma penso a breve che deve giocare con i compagni di squadra e non da solo e Sopì, 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 Sopì ha dei mezzi molto importanti Sottil deve dargli una regolata in questi mesi spero che ci riesca perché sarebbe un peccato perderlo e eventualmente gli prenderà il posto ai Bosele che attualmente stai provando a sinistra in una corsia che non è roba sua assolutamente credo di avervi detto quasi tutto quindi lascio spazio a voi nei commenti ditemi pure la vostra con, ripeto, i margini e i limiti dell'educazione fate le vostre considerazioni se avete domande sarò felice di rispondervi ricordatevi il like e l'iscrizione un saluto, alla prossima ciao